Se fino a ieri parlevamo di un ospedale unico provinciale, oggi parliamo di un unico ospedale, quello del San Salvatore. Torna a batteri pugni il sindaco di Fano Massimo Seri, che oggi ha convocato la stampa per parlare degli ospedali. Dopo la decisione della Giunta regionale sul riassetto della sanità, il primo cittadino non solo denuncia il mancato confronto con i territori, ma lancia l'allarme sul futuro del Santa Croce. Infatti, in base alle ultime scelte, il protocollo del 2018, che prevedeva l'ospedale unico a Pesaro, il nosocomio a Fano più la clinica privata a Chiaruccia, va in fumo. Ad oggi è previsto un nuovo ospedale con 400 posti letto, da realizzare a case bruciate o a muraglia, mentre a Fano rimarrebbe il Santa Croce con 200 posti. Si apre, ha detto, una stagione di incertezze. Rischiamo di compromettere anche tutto un percorso fatto di questi 15-20 anni di integrazione fra le due strutture, con una proposta a ribasso che non è adeguata a quelle che sono le esigenze della città di Fano e del territorio. Avevo chiesto in più occasioni incontro con il Presidente, non è avvenuto, vedo che va in giro per la provincia, è andato giustamente a Pesaro, è andato a Sassocorvara, a Montefeltro, non è venuto a Fano. Voglio ricordare che Fano ancora nelle Marche, è la terza città per abitanti, quindi ha un ruolo importante, però ho qualche sospetto, mentre dall'altra parte è andata a raccontare cosa andavano a fare e qui deve venire a raccontare cosa non si fa. A pensare male, qualche volta ci si azzecca, ha aggiunto Seri, che ha chiesto alla Giunta regionale più attenzione per Fano con investimenti e nuove strutture. Servono servizi adeguati in base alla popolazione, ha detto il Sindaco, altrimenti sarà l'inizio della fine. Solo questione di tempo, significa declassare la sanità di questo territorio e significa un domani andare al superamento e fare quello che magari hanno combattuto con una nuova struttura che sarà ancora più a nord. Io di questo, finché sarò sindaco, la combatterò, quindi questa mia presa posizione è proprio per riequilibrare e giustamente dare le giuste risposte che devono avere questi territori. Lasciatemi dire una battuta, la cosa che mi dispiace è che Fano nel contesto politico regionale non ha mai avuto tanto potere. Metà della Giunta è espressione di questo territorio di cui due Fano e penso che non si possono accontentare di un trofeo così basso per questo territorio.